Il segretario Antonio Jovene, l'amministrazione Capozzo attraverso un comunicato stampa ha evidenziato la situazione critica del Comune di Quarto per quanto riguarda le finanze? Ma noi questo abbiamo letto e siamo veramente allibiti da quel che abbiamo letto perché la relazione di fine mandato ricordo fatta a fine aprile 2015 dai commissari che poi ci hanno accompagnato negli scorsi anni nella gestione evidenziavano per quanto riguarda proprio la condizione finanziaria del Comune che c'era stato un netto miglioramento, una riduzione dei termini di pagamento e comunque c'era praticamente una situazione che andava assestandosi verso un miglioramento. Quindi questa relazione che è qui ben evidente e che tutti i cittadini possono leggere consultandosi andando su Google e potendola scaricare, insieme con questa relazione col comunicato stampa noi contiamo nei prossimi giorni di fare dei passi ulteriori. Noi pensiamo di andare questa relazione con la relazione fatta dal commissario Niccolò con la relazione che fa in questi giorni l'amministrazione insieme ai nostri parlamentari di portarla all'attenzione del prefetto perché sulla situazione di quarto c'è una situazione di opacità complessiva a cui probabilmente le cose invece di migliorare stanno purtroppo peggiorando. Il sindaco afferma attraverso il comunicato stampa che buona parte dei cittadini non pagano i tributi. Ma se questa situazione è così negli scorsi anni questo non viene evidenziato voglio dire nella relazione dei commissari quindi c'è qualcosa effettivamente che non ci quadra.